ciao a tutti ragazze e ragazzi ben ritrovati con the walking dead partiamo pure con l'ultimo episodio della quarta stagione e la conclusione dell'avventura di questa devo dire meravigliosa avventura in compagnia di clementine dopo tutto ne abbiamo fatta file di strada è davvero una storia appassionante appassionante e rigiocabile comunque perché è vero che non tutte le scelte sono delle vere proprie scelte alla fine poi accadono accadono le accade quello che deve accadere che gli sviluppatori hanno prestabilito però delle varianti comunque ci sono secondo me sarebbe curioso appunto in un futuro non so quando perché è una storia lunghissima cioè veramente lunga di rigiocarlo facendo a scelte altre scelte ovviamente lo farò per i fatti miei sul canale un po inutile rivedere lo stesso gioco ecco due volte comunque dai bando alle ciance partiamo con l'episodio 4 ritorno a casa chissà se con ritorno a casa secondo me intende forse la scuola dubito non lo so non lo so dai vediamo e comunque finora crista è sparita o la vediamo qua ma non so incomincio a pensare che forse non se ne saprà più nulla questo presentimento adesso vediamo 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 si bravo 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 ragazzi bravo absurdo bambi bi insomma delle cose buone le abbiamo insegnate però è ancora dubbioso dubbioso vediamo cosa riusciamo a fare vabbè ovviamente qua saranno sopravvissuti tutti se no la storia non va avanti o tutti o la maggior parte ah si è rimasti sulla barca che però si sta inabissando forse ma non penso che il fiume sia molto profondo eh no il cappello porca vacca visto fino adesso il cappello è una bella esplosione è stata quella bomba fatta in casa ha fatto un bel lavoro certo eh non dubitarne all'interno della sia ok 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 si ma ok sta per affondare però non penso che il fiume sia profondo 50 metri eh non so e si sta rompendo no meglio? meglio! eh cavolo eh ma porca datemi il tempo di premere Dio santo niente il problema c'è sempre il problema c'è sempre vabbè ok allora prima avanti ok avanti ho detto poi ok attenzione qua devo ottenere il mignolo insomma su shift che prendono la sprovvista andiamo andiamo dai va che ci siamo eh salta salta ecco ecco shift più e ecco via via andiamo andiamo è vero che però il tumore ha attirato parecchia gente ma che cavolo dove devo mirare scusa ah la aspetta vai cazzottone no vabbè arco di marlon l'ultimo duello ah la maschera di James si prendila prendila chissà mai però manca il nostro cappello ss Lily guarda quando passi attra zo che cose che in in vabbiamo vabbiamo seguiti a non vabbiamo 發生 quello che ho visto no cosa succede con te? la lillia che conosco è difficile, ma non è mai male non è male per l'attacco per lo che ti amo senza le rinforzioni, i miei persone perdere i loro si moriranno per te la Delta è la prima parte che mi chiede a casa dopo anni di trasferimento bene, tu dovresti essere solo Beh Eh beh Guarda Buona fortuna E tieniti fortunata Chissà gli altri L'essere ha vissuta Vabbè Anche se Se comportate in maniera veramente Veramente meschina Puoi prenderla alle spalle dai Però Facciamo vedere Che insomma Siamo superiori Sì Eh in effetti Mi chiedevo C'è questo zombie Dove gli crescono su le piante Comunque ha Penso un significato Cioè che anche dalle cose più brutte Comunque può nascere Fiore Che è una cosa bella Beh Mi piace più avere il cappello Porca vacca Cioè fin dall'inizio Ce l'avevamo Adesso l'abbiamo perso Alla fine Cioè Eh Chi è Ah ok Un zombie Oh Luis Oh Luis Oh Oh Eh Non può parlare Purtroppo Mi sa che un po' ce l'avrà con noi Però adesso vediamo Magari riusciamo a rimediare What happened to Minnie I don't know I lost track after the explosion Clem Oh di la si ma non gridare ma penso c'è ma vabbè che palle cioè ma cosa ve ne frega non lo so fatevi fatti vostri e ce ne andiamo tutti voglio dire ecco mi sta bene oh quindi lascia la voglia però eh è stata morsa oh colpisci i vaganti speriamo di peccarli ok perfetto olè facciamo dei cecchini così così e con l'altro mirino un po' meno e ormai tu sei morta praticamente fuori di testa fuori di testa però sarola vabbè loro sono andati via adesso dobbiamo fuggire noi il tuo coltello è sparito non puoi affrontare lo sciame fuggi fuggi schiviamo gli zombie no no mi ha preso eh caracca mi ha preso pensavo di averlo superato aspetta facciamo ma me lo dice perché noi in teoria potevamo averlo non lo so non penso allora via 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 per dritto dritto per dritto ok ok ah ecco prendiamo l'uco il coltello non penso faremo molta strada a piedi eh però la caverna e però se è una caverna chiusa eh finisiamo andiamo in trappola ci mettiamo in trappola da soli eh questi ah il fiume però costruisci una torcia aspetta che culo che culo allora qualcosa da bruciare ah guarda catasta di legna c'è un anche il legnetto ok ok si dico la verità è Sì, spero che andremo al prossimo posto, con Sophie. Possono essere insieme. E' bene. Vediamo i Jay. Si sente nudo senza pistola. Cavo il fiore. Sembrano sempre più strani. Guarda il lago. Eh, si. Come no? Vabbè, se la cascata è alta direi di no. Però... C'è che culo che non era una grotta chiusa. Cristallo. Grazioso. No, eh. Qui non si va. Questa è troppo umida, ma il legnetto l'abbiamo preso. Trolla vaganti. Ma le si incastrano, dai. Sì. Ma qui... Cadavere. Io li tieni... E' asciutto, può bruciare. Ah, sì. C'è... C'è... C'è un tronco, eh. C'è... C'è... Trovo modo per... Qua qua ho visto un tronco. Spingi legno. Spingi legno. C'è un punto di domanda. Vediamo se c'è altro. Vediamo, eh. Non penso. Eh, infatti. Sì, sì, dai. Spingo... Spingo. Ecco. Sì, dai. Attenzione. No Si è trasformato Ma è stato preso in testa però Sulla nuca Ok l'ho premuto L'ho premuto L'ho fatto C'era sto shift C'era sto Beh dai loro non dovrebbero Essere così intelligenti Da usare il troppo Eh Cadono tutti in acqua Vai salta Ah 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 Ora James sarà contento Di stare in mezzo Ai vaganti Per l'eternità Ah 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 Tre via addirittura Ah Ah Quattro Cinque Oh Eeeh C'è Eh 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 Oh Eh Oh L'ho L'ho Cosa sta pensando Eeeh 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 Converso Eeeh Eeeh C'è Eeeh Can Eeeh 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 Menti, mi spiace, Jay, menti... no, non gli mento. No, non mento a Jay, nel caso. Era diverso. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no che è fuori ora. Penso che il suicidio ora è solo... protegge la gente di te. Il suicidio è una cosa che ci rende sicuramente. Certo, AJ. Il suicidio è un suicidio, niente altro. La vita di umano è preciosa. Non, la cibo è preciosa. Le bambini sono preciosa. Ci dobbiamo vivere. Ma non abbiamo bisogno delle persone che facciano le cose wrongi. Sei troppo raggiunto da capire. Sei solo un bambino. No. Non è proprio un bambino. I know you want to be big for everyone, but... You're just a kid. Like me. Sometimes you're scared just... Like any other kid. So I'll help. You said all the policemen and firefighters died. So... I'm gonna be a new one. Even if I don't get it, Just right, I am. Because all it means is killing bad people who hurt other people. And I'm good at that. Like... I think I could be the best at killing bad people. Better than you even. Because I wouldn't hesitate. AJ, that's not the future I want for you. I love you too much. And I see you slipping away. Getting more violent, more angry, more lost. You shouldn't be afraid of that. I won't let it happen. Mmm. I need you to trust me, Clem. That I can tell the good people And the bad people apart. That I know when to use my gun. And that you'll let me decide for my own. Mmm. Te lo sei guadagnato. Non sei ancora pronto. Dai, diamogli, insomma. Diamogli fiducia. Non lo so. Allora... Non c'è il tempo, eh. Non sei ancora pronto. Poi si... Mi sa che si incazza, eh. Non so. Lo sei guadagnato... Per me non sei ancora pronto. Basta. Non sei ancora pronto. Ajay, you're too little. You... You don't trust me? I can't trust you to make those calls. You can't? Or you won't? Can't or won't? Which one? I've raced you since you were born, Ajay. And it looks like I have a long way to go. Okay. Eh, Mizzica. Spari... Non so. Così. Eh, dai. Non lo so. Vediamo un po'. Che succederà. No, non mi fido al 100%, francamente, di Ajay. Si incazza facilmente. Fuori, insomma. Eh, vabbè. Lo siamo fuori. Che fortuna. Eh. E Ajay cerca la tua approvazione sopra ogni altra cosa. Hai scosso la sua fiducia in se stesso, madonna. Eh. 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 Sì 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 Devi dirmi qualcosa Eh Eh Vabbè Non sarei presa più di tanto eh Sì 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 No, potre anche mettere in un'aria di pietro. Abbiamo già un'aria di bell'aria. Ok, stiamo construire un'aria di bell'aria di pietro. Perfetto. Dopo tutto ciò che è successo, è ancora difficile da immaginare. Dice, abbiamo l'attivato, l'attivato. L'attivato deve sentire più come casa di più, ma non è l'attività. Raggio di sole. Oh, andiamo. Oh, God, sai cosa, è l'attivato più peo. Viene qui nel mare sul e qui è il mayor Violet. Non, 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 tu. Vieni la mia, l'ai amato. Adesso ti piace. Adesso. I want to help rebuild our school you will 10 we all will we can start as soon as we get back let's get home to happy sunshine land in English it's a bit bad but happy sunshine land he reached the bridge but the others where are they? are at school forse ok take your time and keep moving forward attraverso il ponte vabbè non mi sembra distrutto però scricchiola insomma ecco shift più e ah no va che è distrutto oh ma qualcosa di intero non sarà mai rimasto eh è un bel volo vabbè si può saltare però ma questa è la canzone che è sopravvissuta però è oh madonna no 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 fermo fermo fine se può saltare sto l'inzio c'è 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 e c'è 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 Perchè, bisogna essere con la sua famiglia. Non faccio questo. Non preoccuparti, Tenn. Può cercare di perdermi. Ma non ando a nessuno senza te. La notte sarà finita in breve. Perchè! C'è, è perchè ha il loro odore in un certo senso. Adesso crolla, crolla tutto. Allora. Ok. Aspetta, c'è uno vicino. Porca vacca. E vabbè. Gli interi, proviamo. Gli hanno fatti più, insomma... Queste, queste parti... Un po' più, dico, impegnative. Però, devi essere preciso, sennò... Sbagli, eh. Facilmente. Aspetta. Giù un attimo. Quanto pare non posso stare su troppo, sennò... Eh, infatti mi spara. Ok. Aspetta. Crocio. Forca vacca. Mi sono... Ha fatto il colpo dopo. Maledetta. Mi ha preso in giro. Forca vacca. Però, scusa, con tutto il baccano che sta facendo. Dai, non l'attaccano. Vabbè. E vabbè. Allora, qua posso stare fuori. E va bene. Vabbè, giù, 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 giù. Ok. Oh, giù, 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 giù. Ok. Eh, vabbè. Vedi, con l'altro mirino ero più comodo. Madonna. Sì, è qua, è qua. Ce n'è uno qui. Sono troppo. Prova a mirare... Eh, no. Vabbè. Madonna. Eh, che ca... Ok. Grazie. Eh, finiti i colpi. Meno male. Tu c'è qualcosa in mio modo. Porca vacca. Ah, che taglio. Oh, che taglio. Oh, parlo prima no, eh. C'è. Oh, ho ricevuto l'ascia però. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Eh, che due pagni, è tutto così. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Aspetta. Rifacciamo. Non ho... Non ho tutti sti riflessi. Non più. Eh. Un po' il caso. Allora. Anche perché... Il minion non lo tengo sul maiusco, ma vabbè. Non riesco a imparare la lezione Ok No Sta facendo Ricordati I figli di E.J. Perfus Cosa vuol dire? No Ah Aspetta Forse l'ho tradotto male Però Come l'abbiamo reso Eh Ha ragione L'abbiamo reso insicuro Non è riuscito a sparare Per quello Eh Ah È so esperato Ce l'ho, ce l'ho Eh, cavolo C'ho il mignolo su shift, guarda C'è Shift più Q, entro Shift l'hanno fatto apposta, metterlo E, ok Attenzione, Q Cavolo Ecco, lo sapevo Lo sapevo, guarda Beh Lo sapevo che finiva così, eh Come lì, uguale C'è, ha senso Però Porca, taglia la gamba Taglia la gamba Taglia la gamba Vabbè Eh, sì Abbiamo l'accetta Taglia la gamba Eh, già Io me lo sentivo Già qualche episodio fa Me lo sentivo Ah, ma Mafé Di